Partiamo con Noemi Porzio nella serie delle interviste, non possiamo che partire dall'NVP di questa partita il capitano della TUM Perugia e partiamo anche dalla fine, dal momento in cui sembrava l'ospetto del tiebreaker invece proprio il capitano ha suonato la carica e ha dato il la a quella che è stata la rimonta e poi il rush finale della TUM Sì, guarda, meno male perché il tiebreaker non ci voleva soprattutto perché avevamo giocato molto bene i primi due set e loro sono una squadra che non molla mai e l'abbiamo visto perché è il terzo set al posto che arrendersi hanno reagito molto bene, ci hanno messo in difficoltà e devo dire che questa cosa ci è servita perché adesso sicuramente il ritorno sarà fatto di partite intense intense scusate e quindi non mollare mai ci aiuta, questo continuare pallone sopra pallone è importante per noi Infatti una partita con tante facce, due set vinti in maniera netta anche se Castelfranco non ha mai dato la sensazione di essere così arrendevole, in realtà è stato spesso il vostro servizio a mettere in difficoltà il gioco avversario e poi loro invece nel terzo set sono stati capaci di rientrare, di ritrovare energie e di continuare sulla scia del terzo anche nel quarto e questo vi ha messo in grossa difficoltà Assolutamente, loro sono state molto molto brave in difesa perché soprattutto dal terzo set hanno iniziato a toccare tutti i palloni a difendere tanto tanto tanto, quindi più noi tiravamo forte più loro difendevano invece noi abbiamo calato, su questo aspetto qua siamo state un pelo più disordinate forse la parola giusta è proprio disordinate, i primi due set eravamo più ordinate anche se non andava giù il pallone però poi giocavamo invece nel terzo set abbiamo peccato un po' in questo Siamo ancora alla quarta di ritorno, c'è ancora tutto un girone da giocare ma questo campionato continua ad essere straordinariamente equilibrato e ovviamente bisognerà limitare al massimo i passi falsi come purtroppo è successo a Moglie Assolutamente, è un campionato tostissimo, l'abbiamo visto, puoi vincere con tutte, perdere con tutte L'importante è non molare mai, sempre testa alta e secondo me oggi noi l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché avevamo perso male a Moglie senza ombra di dubbio e ci siamo riscattate oggi quindi sono contenta perché abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro quindi brave veramente le mie compagne perché sono stati incredibili Per questo trofeo MVP, questo grifone che arriva nelle mani di una giocatrice che di Perugia sta diventando un simbolo a chi lo dedichiamo? Ma ti ripeto, lo dedico alle mie compagne perché hanno fatto un lavoro egregio e siamo state veramente molto brave e al pubblico che si è sentito tantissimo, tantissimo io lo sento sempre ma tutte lo sentiamo sempre e poi mi piace particolarmente perché è il grifo mi piace molto come simbolo e quindi sono molto contenta veramente più per il grifo che per il premio in sé proprio per il grifo Grazie Capitano Grazie a tutti Continuate a seguirci, mi raccomando Ciao Ciao Grazie